buongiorno a tutti cari ragazzuoli benvenuti o bentornati nel mio canale prima di partire con il nuovo video come sempre vi ricordo che nell'info box in descrizione potete trovare tutti i link riguardanti i social ovvero potete trovare la mia pagina twitter la mia pagina facebook molto importante qualora vogliate essere costantemente aggiornati sulle offerte a 360 gradi che trovo spulciando il web la nuova mail del canale perché se magari ritenete opportuno contattarmi per chiedermi consigli dubbi o quant'altro avete a disposizione la nuova mail del canale e come dico sempre anche il gruppo telegram che se ritenete opportuno raggiungermi anche la potremo durante l'arco della giornata scambiarci messaggi e restare in contatto parlando come sempre di tecnologia e videogiochi a 360 gradi ricordo tutto in descrizione e spero che appunto vi siano utili questi questi nuovi link bene oggi vi voglio portare questo nuovo video perché perché dopo avervi fatto vedere appunto nei giorni scorsi che uni euro appunto faceva da prima le scontistiche tradizionali del 50 per cento e del 20 per cento sui vari videogame e dopo appunto avervi fatto vedere che oltre a queste scontistiche diciamo standard c'erano questi prezzi folli di cui uni euro ancora una volta diciamo ha fatto questo ci ha fatto questo favore di comprare parecchi giochi a solamente un euro e quindi appunto adesso vi farò vedere cosa è stato diciamo il mio bottino finale passando i 4 uni euro che diciamo più o meno vicino vicino casa mia quindi io direi di partire subito perché ragazzi di roba da farvi vedere ce n'è abbastanza e pesucchia anche quindi ragazzi dai partiamo subito senza indugi bene ragazzuoli partiamo subito appunto con questo video acquisti speciale dedicato a uni euro e ricordo ancora una volta che tutti i giochi che adesso vi mostrerò sono stati acquistati alla modica cifra di 0,99 centesimi e prima appunto di mostrarvi cosa ho recuperato io vi consiglio se ancora magari non l'avete fatto di provare quantomeno a fare un giro nel vostro uni euro più vicino a casa vostra e tentare magari di poter trovare anche voi magari dei giochi che di vostro interesse e pagarli solamente un euro che sarebbe credetemi qualcosa di molto molto appagante ma partiamo subito con l'unico purtroppo gioco per pc che ho diciamo trovato durante questo mio viaggio alla ricerca di questi sconti e per pc ho trovato pes 2016 attualmente è l'ultimo diciamo gioco di pes in ordine di tempo anche se comunque sappiamo che fra poco uscirà il 2017 è sinceramente un gioco che volevo anche per pc perché non so se vi ricordate ma durante l'altro video acquisti che ho fatto ho fatto vedere che ho trovato fifa 16 a un euro e adesso comunque ho compensato questa mia voglia di calcio anche con pes 2016 che per un euro ragazzi ci sta e come poi passiamo a playstation vita la console abbastanza sfortunata di casa sony con due recuperi e restiamo sempre nell'ambito del calcio perché sempre a un euro ho trovato fifa 15 che credo sia l'ultima versione che è uscita per playstation vita perché non non mi sembra che sia uscita il 16 per playstation vita ma potrei 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 dire una castroneria casomai correggetemi nei commenti anche fifa 16 vabbè magari andrà provato su su vita così tanto per 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 vedere appunto come è stato fatto il porting sulla portatile sony e comunque dai a un euro tanta roba adesso comunque ragazzi andrò abbastanza veloce perché sennò questo video durerà ore 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 ultimo gioco per playstation vita che ho recuperato nei cestoni a un euro e sempre sportivo virtua tennis 4 edizione tour mondiale e anche questo ragazzi credetemi che fin da quando ho acquistato playstation vita era un gioco che volevo assolutamente perché a me il tennis piace abbastanza soprattutto a livello videoludico e quando diciamo me lo sono ritrovato a un euro nei cestoni la mia gioia è stata incomparabile perché è una bellissima saga che diciamo nata su sala giochi e su poi convertita su dreamcast è un bellissimo un bellissimo gioco di tennis arcade e quindi a un euro tanta roba ok abbiamo finito con playstation vita e adesso io direi di passare alla old gen ovvero 360 e playstation 3 e partiamo con la console di casa microsoft ovvero xbox 360 come primo titolo sempre dei cestoni a un euro abbiamo the evil within ormai diciamo questo gioco è abbastanza conosciuto è il l'ultimo gioco l'ultimo progetto di shinji mikami ovvero il papa di resident evil e diciamo che io questo gioco non l'ho ancora approvato o giusto giusto provicchiato qualcosa sulla versione pc però però diciamo che ho intenzione prima o poi di magari di giocarci e magari a di portare magari a riuscire portarlo anche a a termine spara tutti se spara tutto action in in terza persona a stampo horror molto molto simile a resident evil come tematiche e anche questo se vi interessa è un gioco che passa a un euro in cassa adesso sicuramente farò un casino perché qua sono voi non lo vedete ma io sono circondato letteralmente da giochi allora poi altro gioco che passa a un euro escape dead island questo signori sinceramente non lo conosco conosco la saga principale di dead island ma questo spin off diciamo non non l'ho mai provato quindi non non so non so neanche di cosa si tratta credo sia però diversamente dalla saga principale credo sia in terza persona e comunque resta un gioco che se vi interessa perlomeno provare a un euro ci si butta poi ragazzi adesso arriva un titolone per xbox 360 perché da quello che so è l'unica versione quella appunto di 360 che passa a un euro mentre la versione playstation 3 e le versioni next gen purtroppo non passano a un euro e stiamo parlando signori miei di metal gear solid 5 the phantom pain e credetemi credetemi che trovare questo giocone a un euro non ha non ha prezzo cioè non ha rivali ultima fatica di il grandissimo ideo kojima che appunto prosegue la la storia del nostro solid snake chi ormai non ha giocato resident evil amici miei sì perché ho detto resident evil non lo so segnità ormai portami via perché appunto c'è tutti abbiamo giocato metal gear e quindi e quindi ragazzi cioè oltretutto oltretutto vi dico una stratagemma da poter fare questo gioco signori è accettato per le promo di media world quindi se magari avete intenzione di prenotarvi qualche gioco di prossima uscita da media world potete eventualmente dar dentro questo gioco a media world e comprare il gioco nuovo a sulle 19 euro e quindi quindi ragazzi può essere un motivo in più per andare alla ricerca di di questo gioco qua che ricordo anche questo passa a 0,99 centesimi andiamo avanti sempre per 360 abbiamo una collection di tre giochi la ultimate stilt triple pack e praticamente questa è una collezione contenente come vediamo tre giochi stilt ovvero thief hitman absolution e deus ex human revolution e sono tre signori giochi ragazzi e sono tre signori capolavori che sicuramente se non li avete giocati questa è una valida opportunità per colmare diciamo questa questa lacuna perché sia thief che hitman che deus ex che poi trovati a un euro cioè qua abbiamo ancora qua praticamente abbiamo 30 33 centesimi a gioco che sono tre giochi che costano comunque un euro e il motivo un altro motivo valido per cercare nei vari nei vari cestoni poi andiamo avanti anche qua su 360 abbiamo pes 2016 che come vediamo dal grande diciamo bollino arancione di 1 euro anche qua passa a 0,99 e come ho detto prima per la versione pc è appunto attualmente l'ultima versione del calcio konami aspettando appunto pes pes 2017 quindi non spendo altre parole altra bellissima saga di casa capcom qui però con questo capitolo diciamo ha toccato un po il fondo io l'ho presa appunto perché sempre trovata un euro e stiamo parlando di resident evil 6 e come dicevo prima è una bellissima saga zombesca di casa capcom fino al 4 perché poi il 5 e 6 a mio modo di vedere ha avuto un po una parabola abbastanza discendente con questo capitolo secondo me ha toccato un po il fondo adesso speriamo che con il settimo le cose si risollevino un pochino comunque a parte ciò sempre il solito discorso vale trovarlo a un euro dentro il cestone ci sta e comunque se volete giocarlo a un euro vale assolutamente la pena ma andiamo avanti che se no questo video durerà ore allora altra serie restiamo sempre in casa capcom con un'altra serie diciamo forse la più famosa di casa capcom abbiamo ultimo ultra street fighter 4 se appunto ormai chi non conosce street fighter grandissimo picchiaduro che ormai appunto tutti conosciamo da dalle sala giochi in poi questa particolare versione di street fighter 4 mi sembra sia quella più completa con dentro diciamo tutti i dlc rilasciati fino a quel momento mi sembra che ci siano costumi personaggi extra e via dicendo è un bellissimo capitolo il 4 superato forse solo recentemente dal quinto però appunto se lo trovate nei cestoni a questo prezzo anche qua io consiglio di non stare neanche a pensarci più di tanto e di farvelo vostro perché è pur sempre un bel picchiaduro da da fare finiamo la nostra carrellata xbox 360 con un gioco che anche qua a 99 centesimi ragazzi io credo di aver fatto abbastanza un affare perché qua abbiamo persona 4 ultimate no arena ultimax questo qua io sinceramente non conosco più di tanto la serie persona so che un rpg un jrpg molto molto famoso soprattutto in nella terra del sollevante però qua non avremo a che fare con un diciamo rpg ma con un picchiaduro a incontri appunto come abbiamo visto prima sulla falsariga di street fighter picchiaduro appunto bidimensionale basato logicamente sulla trama di di persona e quindi questo sicuramente lo proverò perché non non ho mai non l'ho mai visto e sono abbastanza curioso di provarlo e sì sicuramente sicuramente ci farò ci farò una partitina ok abbiamo finito i giochi per xbox 360 e siamo già a 12 minuti quindi ragazzi vi scuso per il video se verrà lungo però non è colpa mia partiamo con i giochi playstation 3 che anche qua sono abbastanza e come primo gioco per playstation 3 io credo che forse sia anche uno dei migliori a parte forse un altro che ho trovato nei cestoni sempre a un euro perché ragazzi parliamo di la limited edition di final fantasy 10 e final fantasy 10 x 2 cartonata molto molto belli entrambi i giochi forse di più il 10 però del 10 2 in questa versione particolare avremmo all'interno un art book e non lo so se altre cose sì dei dlc dei dei completi e quant'altro e anche questa quando l'ho vista dentro il cestone a un euro ragazzi veramente mi sono quasi commosso direi perché ci sta ci sta ok aspetta che trovo lo spazio per mettere giù la roba perché sennò allora ok proseguiamo in maniera abbastanza rapida abbastanza veloce con un altro gioco per playstation 3 sempre a un euro qua abbiamo risen 3 titan lords terzo capitolo appunto della saga di risen che forse scioccamente non ho ancora provato avendo comunque tutti e tre i giochi già su pc su steam però non ho l'idea di che se sia diciamo bello oppure no so che è comunque un rpg classico sulla falsa riga di the witcher tanto per capirci però però diciamo non non ho ancora esperienziato questa questa trilogia spero di farlo quanto prima ho sentito ho letto dei pareri abbastanza discordanti su questo terzo capitolo c'è chi dice che abbastanza carino c'è chi dice che è una mesa ciofeca anche fosse una ciofeca ragazzi a un euro tutta la vita ma andiamo avanti anche qui su playstation 3 abbiamo una copia di escape dead island quindi anche per playstation 3 si trova a 0,99 centesimi e come detto prima su 360 quindi non non sto qua a dilurgarmi più di tanto o qua su playstation 3 analogamente alla ultimate stilt triple pack ovvero i tre giochi che vi ho fatto vedere prima in un'unica confezione qua su playstation 3 troviamo la ultimate action complete triple pack scusate con all'interno just cause 2 sleeping dogs e tomb raider del 2013 come è fatto il discorso in precedenza mentre la potevamo trovare tre giochi stealth qua troviamo all'interno tre giochi action e che giochi signori è perché sono tre giochi assolutamente validi sempre trovati a un euro nel cestone e veramente qua se se già un euro a prendere un gioco è un affare prenderne tre a un euro e sono regalati praticamente perché just cause 2 tomb raider e sleeping dogs sono dei signori giochi che vanno provati assolutamente anche questo un euro signori prendetelo se lo trovate perché ne vale veramente la pena andiamo avanti con un gioco amici miei che io l'ho detto tante volte a me personalmente piace moltissimo però è stato passato in sordina diciamo e leggermente secondo me non giustamente criticato dalla massa perché parliamo di murdered soul suspect questo gioco qua io l'ho detto tante volte l'ho già giocato l'ho già finito ma sicuramente lo rigiocherò e lo rifinirò ancora perché è un gioco che mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto anche se come dicevo prima è stato un po criticato dalla dai media io vi consiglio cioè già ve lo consigliavo prima adesso se lo trovate a un euro ragazzi non pensateci prendetelo subito perché è un gioco che vi saprà regalare diciamo svariate ore di divertimento con una buona trama e un comparto tecnico abbastanza buono non eccesso ma abbastanza buono andiamo avanti con un altro gioco amici che avevo già preso la volta scorsa se vi ricordate se avete visto il video precedente altrimenti andatelo a vedere con anche qua una sorta di collection molto molto importante e molto valida sempre di konami e parliamo ragazzi di castlevania lord of shadow collection qua all'interno di questa diciamo collezione avremo appunto castlevania lord of shadow e castlevania mirrors hd lord of shadow mirrors hd che sarebbe appunto la riproposizione del gioco uscito per nintendo 3ds e anche questo signori vale molto molto più di un euro e cioè come fatto come fatto per gli altri titoli mostrati in precedenza anche qua se riuscite a trovarlo prendetelo subito perché è una signora collezione e vale la pena di essere presa soprattutto a un euro ma che ve lo sto dire a fare ok dopo avermi mostrato final fantasy 10 e final fantasy x 2 in collector edition sempre per playstation 3 abbiamo l'ultimo capitolo attualmente uscito per di final fantasy almeno per quanto riguarda questa questa trilogia ovvero lightning returns final fantasy 13 il terzo capitolo conclusivo della trilogia di final fantasy 13 e anche questo gioco che purtroppo non ho ancora avuto modo di provare sembra sia abbastanza abbastanza carino abbastanza valido però la saga del 13 di final fantasy 13 non l'ho ancora toccata e comunque anche questo preso sempre a un euro signori non dimentichiamolo mai se siete appassionati di rpg e se vi piace la saga di final fantasy e non avete ancora questo gioco sicuramente fatelo vostro perché merita di essere provato poi 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 questi qua li tengo per ultimi perché sono quelli più belli a mio avviso anche qua abbiamo su playstation 3 cioè the evil between analogamente come ho detto prima per la versione 360 le cose sono le stesse perché il gioco è uguale quindi ultimo gioco di mikami papà di resident evil e come ho detto su 360 prendetelo perché ne vale la pena e soprattutto a un euro sempre a un euro abbiamo il capitolo credo conclusivo perché non ho idea se ne verranno sviluppati altri di una saga anche qua di electronic arts molto 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 carina e stiamo parlando di quindi death space in questo caso appunto death space 3 credo appunto come ripeto che sia il capitolo conclusivo giocato giocata tutta questa trilogia è finita e io vi consiglio quantomeno di provarla dal primo capitolo perché è una saga appunto che è abbastanza continuativa tra i vari capitoli e quindi magari partendo dal terzo rischiereste di capirci magari un pochino meno della trama però logicamente se adesso passate da un euro e trovate il terzo capitolo a un euro intanto prendetelo e mettetelo in collezione e adesso ragazzi passiamo ai agli ultimi due titoli per playstation 3 che credo di aver fatto uno dei più grandi affari degli ultimi giorni perché sono entrambi i titoli pagati un euro e entrambi i titoli dal discreto valore diciamo economico ma soprattutto dal valore a livello diciamo di divertimento e a livello di proprio interesse per playstation 3 che non ha quasi rivali perché stiamo parlando di kingdom hearts scusatemi HD 1.5 remix ovvero le versioni per playstation 2 di kingdom hearts riproposte in chiave leggermente più moderna con texture diciamo ridefinite e diciamo un gioco una sorta di rivisitazione più moderna di kingdom hearts qua credo che all'interno ci sia il primo kingdom hearts poi c'è kingdom hearts final mix e kingdom hearts chain of memories quello per gameboy advance quindi ragazzi cioè io ancora una volta ringrazio uni euro cioè sto facendo un casino di pubblicità uni euro ma credetemi che non mi paga anzi cioè questo è il modo che uni euro ha per ringraziarmi cioè farmi trovare dei giochi a un euro di questo calibro quindi anche questo ragazzi se per caso avete la fortuna come me di trovarlo nei cestoni fatelo vostro al più presto perché ne vale la pena ma diciamo qual è la cioè cosa ci può essere di più fortunato di trovare kingdom hearts 1.5 nei cestoni di all'interno di dei cestoni che passano a un euro logicamente trovare kingdom hearts la 2.5 è sempre remix e quindi quindi ragazzi c'è guardate c'è trovare la collezione completa di kingdom hearts per playstation 3 a 2 euro praticamente complessivi credo 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 non abbia credo non abbia rivali qua invece all'interno vediamo cosa c'è qua c'è kingdom hearts 2 final mix kingdom hearts birth by sleep che sarebbe quello per ps vita psp scusate e recorded che sarebbe quello del 3ds e comunque ragazzi cioè io non so cosa dirvi ancora ancora una volta fateli vostri se avete la fortuna di di trovarli bene siamo già a 23 minuti ragazzi e siamo più o meno no dai non dico a metà siamo ma non manca tantissimo quindi abbiamo visto il gioco il gioco pc abbiamo visto ps vita abbiamo visto 360 abbiamo visto playstation 3 adesso passiamo alla current gen ovvero playstation 4 xbox one e wii u quindi direi di partire con xbox one di cui appunto ci sono solo due titoli però due titoli ragazzi credetemi molto molto validi e io direi di ripartire con mighty numero 9 ebbene sì ragazzi mighty numero 9 il diciamo titolo che prende origine da spunto da da megaman uscito credo due al massimo due mesi fa o anche meno forse può essere trovato a un euro dentro ai cestoni di di un euro questo è anche questo è un grandissimo colpaccio che che si può fare e che praticamente vi consiglio assolutamente ma cioè io credo che ormai sia superfluo dirlo di farvelo vostro al più presto perché un euro è imbarazzante quasi io direi mentre l'altro gioco che ho trovato sempre per xbox one ha un euro e qua forse siamo ancora a livelli più alti anzi sicuramente siamo a livelli ancora più alti di mighty numero 9 perché anche qua abbiamo una limited edition ed è quella di life is strange questo ragazzi credetemi che io l'ho giocato e l'ho finito ed è uno dei più bei giochi che ho diciamo esperienziato negli ultimi tempi perché se vi piacciono le avventure e volete un gioco che vi sappia coinvolgere e emozionare perché credetemi che questo gioco vi sa anche emozionare sicuramente prendere questo gioco a un euro in questa tra l'altro bellissima limited edition che io ai tempi ho comprato per pc al day one con all'interno la colonna sonora e l'artbook cosa dire ragazzi cioè io non lo so cioè non serve che io vi dica di prenderli questi giochi perché se li trovate tutti a un euro come fate a lasciarli là e quindi ragazzi anche life is strange provate a cercarlo e se lo trovate deve essere vostro poi passiamo a playstation 4 che abbiamo tre giochi vabbè dai anche qua per playstation 4 abbiamo mighty numero 9 così come vi ho detto prima per xbox one lo stesso discorso si può fare per appunto la versione playstation 4 io questo qua l'ho preso al day one l'ho pagato mi sembra 30 euro però già 30 euro vale la pena e trovarlo a un euro ragazzi che tra l'altro all'interno potete trovare un poster e mi sembra qualcos'altro solo che adesso non ricordo e tra l'altro è per la piattaforma playstation e cross buy cioè voi lo comprate per playstation 4 ma poi lo potete diciamo usare anche su playstation 3 e quando uscirà per playstation vita tutto con una sola copia diciamo del gioco da comprare assolutamente mi raccomando altro gioco per beh questo qua lo faccio vedere dopo altro gioco per playstation 4 vabbè preso sostanzialmente perché costava un euro però come ho preso PES 2016 non potevo non prendere PES 2015 che ok magari non sarà un granché rispetto al 2016 però cioè quando l'ho visto anche questo dai nei cistoni trovare giochi per playstation 4 a un euro non si possono lasciare la dai quindi diciamo questo qua è stato preso per fare numero ecco comunque sempre a un euro e concludiamo i giochi per playstation 4 con una gradita sorpresa perché questo gioco non l'ho ancora giocato e questo sarà un buon pretesto per farlo perché sempre a un euro potete trovare io l'ho preso per playstation 4 ma potete trovare un euro anche per Xbox One Darksiders 2 la Definitive Edition appunto come dice il nome versione completa di Darksiders 2 con all'interno tutti i DLC rilasciati fino a quel momento diciamo io ho giocato il primo il primo Darksiders l'ho giocato e l'ho finito e mi è piaciuto molto ora sicuramente grazie a questa opportunità di poterlo giocare a un euro su playstation 4 giocherò anche questo secondo capitolo e speriamo che mi sappia diciamo coinvolgere e divertire come ha fatto il capitolo precedente ok ragazzi dai ci siamo siamo alla fine siamo alla fine il video dura siamo arrivati a 30 minuti io non lo so se l'avete guardato tutto il video in questo caso vi ringrazio ma prima di chiudere il video vi voglio vi voglio lasciare con la bomba finale perché 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 ho preso anche un gioco uno solo per Wii U l'ultima console di di Nintendo ho preso un gioco solo ma è un gioco che sicuramente vale forse la maggior parte dei giochi che avete visto finora è un gioco non è un gioco è una limited è una collector edition per Wii U molto ambita che ormai diciamo non si trova più da nessuna parte quindi diciamo per me è stato già bello già fantastico poterla trovare in questo unieuro perché ripeto è una è una limited edition che ormai si fa molta fatica a reperire e poi ragazzi quando c'è non solo sono riuscito a trovarla ma anche questa signori passa a un solo euro e sappiamo quanto i giochi di Nintendo siano resti a calare di prezzo qua non solo è calata di prezzo ma viene praticamente regalata quindi signori è con immenso piacere che vi dico che se anche voi come me foste molto fortunati a trovare questa limited edition di non lo so di correre di saltare dentro a un euro della gioia perché perché avete la possibilità ragazzi di trovare Xenoblade Chronicle X la limited edition per Wii U a un solo euro cioè ragazzi non sto scherzando eh non sto scherzando la limited edition di Xenoblade Chronicle X la potete trovare all'interno di unieuro a un solo euro cioè io credo che questo sia uno degli affari della vita videoludica che una persona può fare perché trovare 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 nuova praticamente regalata credo sia credo credo sia credo sia diciamo commovente anche in questo caso è commovente signori e quindi quindi diciamo con con questa perla spero di aver rifatto aver rifatto cosa gradita con questo video ma cosa c'è di ancora migliore di trovare diciamo a un euro Xenoblade Chronicle X per Wii U molto semplice trovarne due vabbè dai qui in questo caso sono stato abbastanza fortunato bene ragazzi dai io adesso veramente è finito il video acquisti spero di avervi fatto cosa gradita mostrandovi questo bottino che sono riuscito a trovare da unieuro vi invito se ancora non l'avete fatto di correre di passare nei vostri unieuro più vicini a casa vostra per poter sperare anche voi di trovare diciamo uno di questi giochi o perché no magari altri giochi che io non sono riuscito a trovare che magari passano un euro cosa dire ragazzi magari se vi fa piacere condividete questo video così come vi ho chiesto di condividere quello precedente per magari fare sapere alla gente cosa si può trovare appunto in queste offerte di unieuro ricordo ricordo per l'ultima volta che tutti i giochi che avete visto in questo video passano a un euro in cassa tutti quanti quelli che avete visto e quindi ragazzi cosa dire voglio solo un'altra volta ricordarvi che nell'infobox diciamo sotto a questo video in descrizione trovate i link ai miei nuovi social twitter facebook per stare in contatto con diciamo le nuove offerte che trovo nel web la nuova mail del canale per contattarmi se avete consigli, dubbi richieste o quant'altro e il gruppo telegram così se decidete di raggiungermi potremo durante la giornata tramite messaggistica scambiarci 4 chiacchiere nell'ambito della tecnologia e nel videogame a 360 gradi bene ragazzi a me non resta che salutarvi ringraziarvi ancora una volta se avete visto tutto questo video fino in fondo cioè avete usato 35 minuti della vostra vita spero in maniera valida quindi ci vediamo ad un prossimo video inerente a magari un altro video acquisti che magari se farò degli altri video acquisti ve lo comunicherò facendo un altro video ma soprattutto come sempre vi do appuntamento ad un prossimo video ciao ragazzuoli